Il nostro obiettivo è quello di far giocare i bambini perché a noi ci interessa questo, solamente far giocare e far divertire i bambini senza il discorso di classifica o meno. L'importante è che i bambini si divertano in questo torneo. Qual è lo spirito con cui vivono questo tipo di manifestazioni i bambini? Non sono partite agonistiche, sono partite soprattutto per cercare di confrontarsi, di conoscersi, anche per far nascere delle nuove amicizie. Assolutamente sì, lo spirito è proprio quello lì, quello di far fare delle partite, di cominciare ad iniziarle al gioco del pallone, ma soprattutto farli divertire, quindi per loro è un gioco, non è un'attività agonistica, quindi per loro è solamente quello. Siete molto curiosi di sapere come andrà questo torneo e anche fra due settimane ci sarai alla presentazione di Piazza del Popolo? Assolutamente sì, porteremo i nostri bambini alla presentazione di Piazza del Popolo perché mi sembra una manifestazione bella e costruttiva.